Il PD casertano è in frantumi, i giovani democratici le hanno chiesto di assumere le redini del partito per avviare un rilancio, lei è disponibile? Voglio molto bene ai giovani democratici di Caserta e non solo perché sono stati sempre la mia interfaccia in questi anni, come riferimento mi sento molto più vicino a loro che agli adulti, ringrazio della richiesta, queste sono cose che vanno ponderate seriamente, bisogna vedere qual è il quadro nazionale, cosa dirà l'Assemblea nazionale di sabato dell'11 maggio a Roma e poi si vedrà. C'è comunque una guerra tra Correnti a Caserta, una soluzione che lei potrebbe indicare? Ma io non appartengo a Correnti.